Realizzo questo brevissimo video tutorial a favore di quelle persone che hanno già deciso o hanno già acquistato o intendono acquistare il Fiber Control, il primo estrattore al mondo capace di regolare il quantitativo di fibra in uscita dai succhi, non più attraverso un cambio di filtro interno come accade in tutti gli altri estrattori, ma attraverso un sistema esterno di controllo che semplifica le operazioni. Noi sappiamo che appunto oggi tutti gli estrattori al mondo contengono almeno tre elementi interni fra cui la coclea, il filtro e il cestello. Questi tre componenti nel Fiber Control così come in essenza e in giù espresso i tre prodotti sicuri sono condensati in un unico elemento interno. L'ulteriore innovazione con il Fiber Control è che in realtà quando vogliamo cambiare il tipo, la densità di fibra nel succo, non cambiamo più il filtro interno come accade invece ancora oggi negli altri estrattori, ma appunto attraverso la regolazione esterna con questo controller. Come funziona il controller? Vado abbastanza veloce perché è semplice da usare, ma bisogna avere questa accortezza. Quando lo inseriamo dobbiamo far allineare sostanzialmente questo mirino che vedete all'esterno è una canaletta interna, eccola qui. Allora a questo punto quando lo inseriamo semplicemente avremo accortezza di farlo in verticale, vedete il sistema va dentro e si crea lo scatto giusto per poter cominciare a regolare le fibre. In questo caso vedete se io metto su normal ottengo appunto un succo con densità di fibra normale, è comunque un succo più liscio, quando invece giro dall'altra parte e vado su appunto in questo caso identificato come more pulp o comunque più fibra, sempre allineando gli elementi, ottengo appunto più fibra nei succhi che preparo. Questo sia per chi appunto ha necessità e gusti diversi, sia perché possiamo realizzare con questi controlli diversi tipi di estratti piuttosto che smoothies, piuttosto che sorbetti o gelati, tenendo presente che il fibre control riesce a lavorare anche appunto per il tipo di motore che ha anche il ghiaccio. Ma mi fermo qui, la cosa più importante che volevo spiegarvi appunto è come inserire questo sistema e come regolarlo in modo da fare realmente questo cambio di densità.